Il Milan è minacciato dalle vittorie di Juventus e Atalanta alle sue spalle, è vietato rallentare stasera, è uno scontro diretto per la Champions League, è una grande classica. Milan-Napoli, ventisettesima giornata di Serie A Team. È già largo a sinistra Teo Hernández, si fa vedere tra le linee Krunic, non servito, tocco col braccio di Teo Hernández, si continua a scambio, c'è la Noglu, Teo Hernández ancora, c'è la Noglu, calcio a giro! Largo il destro di Akan, c'è la Noglu. Il lancio dentro, Tomori non ci arriva, Zieliński! Controllo e calcia! Tonnarumma riesce ad evitare il gol del vantaggio del Napoli. Politano che torna verso Fabian. Tonali in copertura, apertura a sinistra verso Insigne che la mette giù con il petto. Affronta Dallò, Insigne è dentro, Zieliński! Il sinistro sul fondo! Napoli ha un passo dal gol del vantaggio al minuto 29 con Piotr Zieliński. Che bella azione! Palla rischiosa per Tonali. Leao riceve, vada Castiglieco. Largo c'è Dallò. Castiglieco vicino all'area di rigore con il sinistro dentro. Leao controlla, calcia! Leao centrale potente. Ospina c'è in due tempi, neutralizza. Dallò Castiglieco anticipato facilmente da Yousai e Zieliński. Prima di che si nello spazio il Napoli, ancora Zieliński servito. Pallone con il destro dentro, Politano in aria. Politano è in vantaggio al Napoli con Matteo Politano in diagonale. Firma il gol dell'1-0. Ottavo gol in questo campionato. Politano porta in vantaggio la squadra di Gattuso a San Siro. Bella azione. L'assist, l'apertura di Piotr Zieliński. Passa bene con gli scambi il Napoli. e arriva dalle parti di Donnarumma dove Politano, pure con il piede meno educato, è riuscito a segnare. Kronic superato da Di Lorenzo, non c'è fallo. Di Lorenzo in verticale per Politano. In aria di rigore Politano con il cross che sbatte sulla schiena di Tomori. Diventa buona per Fabian Ruiz! Donnarumma ancora Fabian Ruiz. Da lotta. Evita il gol del 2-0. E va a disturbare lo spagnolo. Il sinistro di Fabian Ruiz. La respinta di Donnarumma che tiene in partita al Milan. Due tocchi. Braccio destro e poi gamba destra. Va Tonali. Deviazione di testa! La parata di Ospina sul tentativo di Rebic. Milan pericoloso. Calcio di punizione di Tonali di testa. Rebic riesce a girarla verso la porta. Reattivo però. Ospina. Tonali. Cerca il rilancio. Rebic nello spazio. La mette giù bene. Rebic. Prova ad accentrarsi. Rebic. Prova a contenerlo con i bali. Accelera Rebic. Per resistere anche alla chiusura di Yuzai. Comment e follow lui. E' stato espulso Rebic. Clamorosa ingenuità di Rebic che oltre a non graffiare dal suo ingresso in campo penalizza il Milan. Fabian Ruiz per Di Lorenzo che guarda all'area di rigore. Crossa. Vittor Rosimane ha sfiorato il super goal. Vittor Rosimane che chiede deviazione e calcio d'angolo. Il Milan perde in casa. Napoli che vince 1-0. Festeggia Gattuso. Passa l'1-0. Affirmato Matteo Politano. Passa l'1-0.